gr uno omicron la prudenza dell'ema due settimane per capire se i vaccini restano efficaci il numero uno di moderna protezione in calo con la nuova variante scuola si cambia ancora con un positivo in classe torna la didattica a distanza il ministro bianchi i contagi in aumento meglio la cautela il super green pass scatta lunedì la morgese più controlli anche su bus e metro mattarella non abbassare la guardia contro il covid corre l'inflazione più tre otto per cento a novembre ai massimi da tredici anni draghi pronti a un nuovo intervento contro il caro bollette buon Natale salvo marcia indietro di Bruxelles la commissione ritira il documento che consigliava di usare l'espressione neutra buone feste Pasolini mostra a Genova Palazzo Ducale la figura del grande scrittore regista attraverso più di duecento fotografie calcio la serie A torna in campo per il turno infrasettimanale dalle diciotto e trenta con Atalanta Venezia e Fiorentina Sampdoria alle venti e quarantacinque Salernitana Juventus e Verona Cagliari MS sta lavorando con partner tecnici per comprendere il potenziale impatto di questa variante sulle nostre contromisure esistenti compresi i vaccini che rimangono fondamentali per ridurre le malattie gravi e la morte così una nota d'aggiornamento dell'organizzazione mondiale della sanità che ribadisce come anche contro il virus circolante dominante il delta i vaccini attuali rimangono il presidio più efficace contro la covid questo nonostante in mattinata l'amministratore delegato di Moderna avesse a mezzo stampa manifestato più di qualche dubbio sull'efficacia dei vaccini attuali rispetto alle mutazioni della variante Omicron l'OMS aggiunge che altri trattamenti saranno valutati per vedere se sono ancora altrettanto efficaci rispetto appunto alla nuova variante e sui trattamenti antivirali si è espresso ai nostri microfoni anche il genetista massimo zollo coordinatore della task force covid 19 del change per combattere un virus non c'è solo la porta d'ingresso ma una volta che è entrato bisogna impedirgli di replicare se stesso e è il momento di insistere su questo aspetto perché modo migliore per combattere probabilmente sarà quello di bloccare la sua replicazione in cellula mauro zanda gr1 grazie a tutti